Buongiorno, questa trasmissione è dedicata agli insegnanti e agli allievi, ai ragazzi dei 10-30 anni che parteciperanno al progetto Sentinele dell'Aria. Avranno alcuni strumenti per effettuare questo loro ruolo, che sono una rete di mini centraline, un sensore per la linea carbonica e dei campionatori passivi dedicati per il monitoraggio di particolari inquinanti. Cominceremo con questo primo strumento che sono la rete delle mini centraline per le polveri sottili. La mini centralina è quella che vedete, quindi quello che adesso vi illustreremo è cosa si può fare, quali informazioni possono dare le mini centraline che sono appunto questa scatola, che è stata posizionata in diverse parti della città, che fanno parte della rete di monitoraggio popolare che abbiamo installato e che abbiamo messo a disposizione delle scuole che hanno diritto al progetto. Vediamo cosa c'è dentro questa scatola. Dentro questa scatola abbiamo da una parte a sinistra un sensore, un sensore di produzione cinese, SDS-011, che è molto utilizzato anche dagli enti di ricerca per le sue prestazioni molto interessanti e dal cuore, che adesso descriveremo un po' meglio, che prevede l'accampionamento delle polveri sottili. Con questo strumento noi possiamo avere misure in tempo reale, quindi ogni cinque minuti possiamo sapere qual è la concentrazione delle polveri sottili PM10 e le polveri ultrasottili PM25 presenti nel luogo dove questa centralina è stata messa. Appunto a fianco del sensore, in questa immagine dove vediamo smontata la scatola che di fatto costituisce le mini centraline, abbiamo la scheda Arduino che riceve i segnali in uscita dal sensore, li elabora e permette l'accesso di queste informazioni alla rete internet. Per cui tutte le informazioni che il sensore registra sono controllabili, visibili in tempo reale attraverso un normale smartphone o un iPad o anche un computer. Questa è la novità perché tutti potranno appunto in tempo reale avere questa informazione. Come funziona il sensore? Qui abbiamo uno schema che, come dite, riprende l'immagine precedente. Questo sensore è fatto da un fan, da un piccolo ventilatore, il quale aspira l'aria dalla parte a sinistra e quindi convoglia le particelle lungo un percorso per cui queste stesse particelle, grandi e piccole, appunto PM10 e PM25, vengono intercettate da un raggio laser di particolare lunghezza d'onda che invia un segnale che a questo punto verrà trasformato in concentrazione. Le particelle dopo questa misura vengono espulse all'esterno. Quello che qui vediamo è come funziona il meccanismo che è la diffusione laser. Quindi vedete sulla sinistra il laser che illumina le particelle che sono state convogliate dal ventilatore. Queste particelle illuminate diffondono la luce secondo un determinato angolo e un particolare detector misura l'intensità della luce a un determinato angolo. Questo angolo scelto proprio per ottimizzare la risposta delle PM25, che è quella diciamo la risposta migliore di questo tipo di detector, e di quella del PM10 che viene calcolato in qualche modo in conseguenza. Il segnale, l'intensità del segnale viene trasformato in un numero con un adeguato algoritmo che corrisponde alla concentrazione istantanea delle polveri appunto PM10 e PM25. La rete di cui abbiamo parlato è costituita da numerose di queste centraline. A fine luglio del 2022 erano state installate 13 mini centraline dall'Ecoistituto che partecipa, che ha promosso queste iniziative insieme al rinascimento Genova e questi dati sono disponibili, come dicevo prima, a tutti quanti. Allora, le centraline non tutte sono attive. È possibile che per motivi, diciamo, di difficoltà al collegamento al Wi-Fi, al router con cui ognuna delle centraline è stata affiancata, qualcuna di queste non trasmetta temporariamente queste trasmissioni. In questo caso, come vedete in questa immagine, in verde sono le centraline attive. In grigio e sulla sinistra dell'immagine, in corrispondenza del polto di Voltri, c'è la centralina che in questo momento, proprio questi motivi tecnici, non sta comunicando. Con opportuni adesso comandi che qui vedremo molto meglio, è possibile visionare le centraline, le misure delle PM25 e PM10 e anche quali sono le centraline attive e quelle che non sono attive. C'è a Genova un'altra rete, in qualche modo affiancata, quindi quello che abbiamo visto è la rete popolare. Quella che qui vedete invece è la rete ARPA, quindi la rete ufficiale, quella che misura ufficialmente i dati dell'inquinamento presente nella città, che è fatta da sette stazioni dedicate al PM10 e cinque dedicate al PM25. Ora, come accennato, ognuna di queste centraline invia dei dati in tempo reale a un opportuno server, il quale a sua volta trasmette, appunto l'indirizzo che qui vedete sotto, trasmette le informazioni. Adesso andiamo ad aprire questo sito, quindi che aria tira, e andiamo a vedere cosa si può, quale tipo di informazioni possiamo disumere da questa rete. Cliccando su questa finestra, come vedete si aprono tutta una serie di, una tendina, che ci permette di vedere le centraline che fanno parte di questa rete. Sono più di 130, di cui soltanto appunto queste, una decina, come avete visto, sono quelle delle centraline di Ligure. Però abbiamo in Toscana, nel Vertone, in Emilia-Romagna, nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, centraline di questo genere. Quindi è una rete nazionale che volendo potete anche andare a vedere. Su questa tendina ci sono informazioni su chi ha pensato a questo progetto. sostanzialmente un'associazione che si chiama Man-Meno-Inch, il non-inceneritore di Firenze, che ha fatto un crowdfunding, una ricerca di fondi, che ha permesso la realizzazione di questo software e la costituzione della prima rete, che è stata fatta nella Piana di Firenze, proprio perché era una risposta alla mancanza di dati ufficiali della qualità dell'aria di Firenze, che possiamo anche anticipare molto peggiore di quella che comunque abbiamo noi a Genova. Da questa immagine possiamo avere quest'altra informazione, col più o col meno possiamo estendere, ampliare o ridurre la mappa che abbiamo sotto controllo e da quest'altra, aprendo questa finestra, come aveva visto in precedenza, possiamo selezionare le misure di PM2.5, le misure di PM10 e quali sono le centraline attive e non attive. La mappa, sul lato destro in basso, vedete due scale colorimetriche del PM2.5 e del PM10. In default, diciamo, come in questo momento, le immagini che vediamo, i colori che vediamo, si riferiscono alle PM2.5, per cui tutti quei punti verdi che vedete sono tutte le centraline dell'attuale rete, quindi in tempo reale, stiamo vedendo qual è la situazione proprio in questo momento, il fatto che siano tutte verdi ci segnalano che siamo, come vediamo da questa immagine, abbiamo concentrazione di colori sottili che stimate dalle nostre mini centraline inferiori a 10 microgrammi per metro cubo. Man mano che i colori passano al giallo, all'arancio, al rosso, al blu, questo ci dice che la concentrazione misurata è molto via via più elevata e che si avvicina a quelli che sono i valori di riferimento per gli standard di qualità dell'aria. Clicco su questa concentrazione che si chiama Zenzero-Terralba, come vedete appare appunto un dettaglio che ci dice in questo momento qual è la concentrazione misurata appunto nel centrale che è posizionata presso il circolo Zenzero nelle zone di Terralba, quindi nella zona di Genova, siamo 3 microgrammi per i metri cubi per le PM2.5 e 4 microgrammi per i metri cubi per le PM10. Andiamo a vedere, se andiamo a vedere su quest'altra centralina, che è molto più distante, siamo a Bogliasco, in via Mazzini, in questo caso anche qui abbiamo un'informazione di quali sono le concentrazioni in questo istante di PM2.5 e PM10. Se andiamo a cliccare, e questo vale per tutte le altre centraline che poi vedremo anche elencate, se clicco su Dettaglio compare questa schermata che mi dice quali sono le concentrazioni negli ultimi 60 giorni registrate da questa centralina, sia le PM2.5 che le PM10. I numeri sono quelli che vedete qui elencati, qui è la data che riguarda il giorno, c'è questo, ovviamente l'anno c'è questo errore che dovremmo eventualmente correggere, ma comunque se è il 2022, e scorrendo possiamo andare a vedere quali erano le concentrazioni misurate da questa centralina appunto nella stazione di Bogliasco negli ultimi 30 giorni. Bogliasco e Terralba sono utilizzati come valori, come centraline di riferimento. In particolare Bogliasco è una centralina che si trova ovviamente fuori dall'area urbana, quindi come dire è un riferimento lontano dei importanti inquinamenti da traffico, mentre quella di Terralba, dallo Zenzero, può risentire dell'inquinamento per esempio della vicina, sia di Terralba dove c'è tutta un'avventazione anche di mezzi pesanti in questo momento, e della ferrovia, ma ancora di più del traffico sia di corso Europa, ma ancora di più del traffico di via Torti che è molto vicino ad esso. Quello di questa centralina del Zenzero è una centralina di riferimento dell'inquinamento di fondo urbano. Andiamo a vedere in qualche dettaglio. Clicchiamo su PM2.5 e quello che vediamo è un dato che si riferisce alla concentrazione in questo momento, che è 3 microgrammi e il colore verde, vedete, perché siamo in questo settore. Quello che vediamo in qui sono invece le misure ogni 5 minuti effettuate nelle ultime 6 ore. Quello che si nota è un picco. Andiamo a cliccarci sopra e a questo punto vediamo questo picco che è di 4,83 microgrammi per metro cubo, che è il valore massimo registrato durante questo periodo. Di questo periodo delle 6 ore, qui possiamo leggere qual è la media, 2,81, qual è il valore massimo appunto a questo 4,83 e qual è il valore minimo, 2,38 microgrammi per metro cubo sempre. Siamo appunto a Bogliasco via Mazzini, andando a scorrere in basso andiamo a vedere su un periodo più lungo, quello di 12 ore e quindi notiamo che abbiamo un picco ancora più grande e questo picco a che ora c'è stato? Beh, il picco è intorno alle 7 del mattino. Posso già dirvi, perché io abito praticamente vicino a questa centralina, che questo è il segnale che tutte le mattine io registro con questa centralina ed è il passaggio della motospazzatrice meccanica a pochi metri dalla centralina, insomma lungo la strada dove è la mia abitazione, e che nonostante l'uso di acqua solleva polvere che la centralina regolarmente registra. Andiamo oltre e vediamo le misure delle ultime 24 ore. E infine le medie orarie. Quindi queste sono misure ogni 5 minuti, queste invece sono misure ogni ora. E quindi vediamo nelle ultime 24 ore qual è la concentrazione media oraria. Quindi possiamo avere un'idea dell'andamento di questa riconcentrazione oraria in questo sito e vedere, per esempio in questo caso, che questa giornata il valore massimo è stato registrato a luna di notte. Come dire, l'interpretazione di questi dati può essere, fa parte di tutte le informazioni che le centraline con queste misure in continuo ci danno. Andando oltre vediamo la media oraria degli ultimi 7 giorni. Come potete notare c'è una sequenza di andamenti che variano nel tempo. un improvviso abbassamento dell'inquinamento da polveri. Tra l'altro questo coincide con l'arrivo della perturbazione di un po' di pioggia che è avvenuto un altro giorno. E poi di nuovo l'aumento della polverosità. Negli ultimi 15 giorni l'andamento è stato questo. I vuoti sono momenti in cui c'è stato un distacco della centralina dalla rete per cui abbiamo un vuoto di informazioni. Ripeto, ogni tanto succede. E vedete tutta una serie di picchi che si sono registrati in determinati punti, in determinati periodi. Nelle misure di 30 giorni è questa e quello di 60 è questo. Quindi abbiamo lo schema completo e simili andamenti possono essere valutati in tutto il periodo. Per curiosità vostra, questa misura che è stata fatta il 15 di luglio probabilmente coincide con l'accensione di un barbecue sotto casa. Quindi abbiamo questi piccoli problemi. Infine abbiamo le medie giornaliere degli ultimi sette giorni. Le medie giornaliere degli ultimi 30 giorni, degli ultimi 60 e infine quell'elenco che avevo già visto in precedenza. Allora, se torniamo sul sito. Quindi queste sono tutte le informazioni che possiamo avere dalle centraline. Andiamo avanti e vi diamo quest'ultima informazione. Una parte di queste centraline, in particolare 9, sono le mini centraline che abbiamo definito essere allineate. Sono state allineate a Firenze praticamente. Ovviamente tutte le centraline sono state messe nello stesso ambiente. I loro dati sono stati confrontati con centraline di tipo professionale che usa la stessa tecnica analitica ma di tipo professionale, quindi molto più costosa. E quindi con correzioni del segnale in uscita, tutte le centraline allineate di fatto stanno misurando, sono in grado di poter misurare, messe nello stesso ambiente, tutte quante danno lo stesso valore. Quindi in questo caso si dice che la misura è precisa e questo ci permette di confrontare i valori di tutte queste centraline. Le centraline allineate sono quelle che qui vedete elencate e sono quelle che in questo momento fanno parte del progetto a settinelle dell'aria. Quindi alcune di queste sono state messe presso le scuole o nelle scuole o nella vicinanza delle scuole che partecipano al progetto. In particolare Borzoli e l'istituto nautico sono state messe all'interno dei due rispettivi scuole. E come dicevo, proprio grazie a questo allineamento, le misure che effettuate contemporaneamente da tutte queste centraline possono essere effettivamente confrontate. Nella rete sono presenti cinque centraline, sono quelle elencate in questa diapositiva, Ristori, Porri, Argino Polcevera, Canepa e Corso Firenze. Sono le centraline che sono in funzione da maggior quantità di tempo, ma che hanno una particolarità, sono state appunto calibrate. Questo significa che sono state messe a confronto diretto con una centralina ARPA al posto nelle loro immediate vicinanze e si sono confrontati i loro dati. Questa immagine mostra il confronto che è stato fatto con la centralina laboratorio mobile ARPA e la nostra centralina che è quella posizionata sulla sinistra. Questo grafico mostra la correlazione lineare che è stata registrata mettendo a confronto le misure giornaliere della centralina ARPA con quelle delle centraline low cost posizionate nelle sue vicinanze. Sono misure giornaliere effettuate per un lungo periodo, quello che risulta essere una correlazione lineare accettabile. Tuttavia l'incercetta, che è stata riscontrata di 6,23 microgrammi per metro cubo, segnala come le mini centraline sostanzialmente in modo sistematico sottostimino le concentrazioni che effettivamente misurate dal valore vero che è quello del centraline ARPA. L'equazione lineare ottenuta tuttavia permette di correggere questo errore e questo lo si fa introducendo al posto della x il valore misurato dalla centralina e il calcolo che viene fatto permette di valutare qual è il valore corretto che è il valore y dovuto alla calibrazione. Questo grafico mostra come sia possibile in verde chiaro i valori misurati dalla centralina ARPA. I valori rossi i valori misurati in contemporaneamente dalle nostre mini centraline. Quindi il valore blu mostra il valore corretto utilizzando l'equazione che abbiamo visto in precedenza. Come si può vedere le mini centraline tendono appunto come aveva già accennato a sottostimare in modo sistematico le concentrazioni vere con questa correzione i due valori tendono ad essere abbastanza sovrapponibili. Cosa si può fare con le mini centraline che è messa a disposizione della mini rete? Si può stimare in tempo reale l'andamento delle concentrazioni di PM10 e PM25 come abbiamo visto. Si possono identificare i fenomeni di inquinamento acuto di breve durata determinandone la data e la sua intensità anche qui come abbiamo visto. si possono confrontare le medie di misure effettuate appunto ogni 5 minuti, ogni ora, ogni giorno da reti omogenee, in particolare delle reti delle mini centraline alineate e di quelle delle mini centraline calibrate. Si possono stimare gli effetti di eventi meteorologici. Quindi cosa succede quando ci sono le giornate di vento, quando ci sono le giornate di calma, quando c'è vento da nord piuttosto che il vento da sud, quando arrivano perturbazioni che portano magari pioggia oppure forte vento. Cosa non si può fare con le mini centraline? Le mini centraline, proprio perché non sono adeguatamente accurate, non possono, come dire, permettere di stimare il rispetto del limite di legge sulle qualità dell'aria. Voi vedrete nei grafici delle linee rosse che corrispondono ai limiti di legge, ma queste sono, come dire, indicazioni soltanto indicativo. Il parere è riservato alla stazione Arpal per quanto riguarda il superamento meno del, adesso poi lo vedremo, dei limiti di legge. Un altro limite di queste mini centraline da cui bisogna stare presenti, ma Genova non è particolarmente importante, a dire la verità, perché anche con un'altra vedità la presenza di nebbia è un evento veramente, o di caligini, è un evento veramente raro delle nostre parti, ma quello che dice il produttore della centralina, del sensore, e quello che abbiamo verificato è che con umidità relativa maggiore del 70%, la centralina, di fatto, come sono state strutturate, considerano essere delle polveri sottili, quelle che sono micro goccioline di umidità condensata. Quindi, in questo senso, ripeto, bisogna, con cautela, ogni volta che abbiamo misure effettuate con umidità maggiore del 70%, cosa che ovviamente può avvenire, anche qui i valori, le misure di concentrazione sono da prendere con una certa cautela, ma indubbiamente comunque, ecco, per esempio anche in questo caso, eventi anomali di breve durata possono essere, come dire, in qualche modo studiati perché c'è un motivo locale che merita di essere indagato anche se ai fini di valutazioni sanitarie queste misure sono meno affidabili. Ora, per finire, diamo un'occhiata anche perché comunque questo tipo di misure della rete ARPAL fanno parte del, diciamo, delle informazioni utili da utilizzare per il progetto sentinelle. Cioè, le sentinelle possono utilizzare, se sono interessati, come devono essere interessati a capire se delle loro vicinanze, delle case dove abitano loro, i limiti di legge sono rispettati o meno, possono accedere a questo sito, adesso lo vediamo, che andiamo a vedere che informazioni ci dà l'ARPAL, la rete ARPAL. Entriamo in questo sito, in questo caso siamo, come dire, arrivati a una particolare stazione che ci interessa perché è quello del mezzo mobile, come vedete qui indicato, un mezzo mobile di Nissan, la marca del mezzo mobile, che è posizionato in una piazza a largo San Francesco da Paola che è proprio la postazione che ARPAL ha volutamente scelto con qualche difficoltà per posizionare questo mezzo per misurare le emissioni portuali che, come capite bene, è uno dei problemi. Che informazione ci sta dando per esempio in questo momento per questi inquinanti? L'ossido azoto, il biossido azoto, andiamo a vedere le polveri, il PM10 e il PM25. Ecco, soffermiamoci sulle misure di PM10, sono misure orarie, anche in questo caso andando a posizionarci sulle singole misure vediamo il valore e l'ora in cui è stata effettuata la misura e quindi vediamo per esempio che allora venerdì, quindi il 29 luglio alle ore 13 i PM10 era 14,20 per essere invece il sabato quindi del 30 luglio oggi un valore molto più basso 6,20 e così via. Questa la centralina come vedete però misura anche gli ossidi azoto in particolare il monossido e il biossido anche in questo caso viene riportato il valore limite orario e quindi permette dato che sono misure orari è possibile fare questi confronti 200 microgrammi a fronte di un valore massimo che è di 26-27 microgrammi quindi questa giornata probabilmente la perturbazione che è arrivata l'altro giorno ha abbastanza i vari inquinanti. torniamo alla mappa delle stazioni queste abbiamo tutte le mappe presenti in Liguria abbiamo informazioni anche qui il colore ci dice quali sono le zone a rischio e quali le zone meno a rischio la prossima puntata del prossimo tutor riguarderà un altro sistema di misura che verrà dato alle quattro scuole pressi scolastici che hanno aderito il progetto e che è un sensore di rendita carbonica alla prossima grazie